Nel maggio dello stesso anno, in un roseto a mezza strada tra Grasse e il borgo di Opio a Est, fu rinvenuto il cadavere nudo di una fanciulla quindicenne. Era stata uccisa con una randellata alla nuca. Il contadino che l'aveva trovata era così turbato dall'atroce scoperta da rendersi quasi sospetto, mentre riferiva con voce tremante al tenente di polizia che non aveva mai visto una simile bellezza, quando in realtà avrebbe voluto dire che non aveva mai visto un simile orrore. In effetti la fanciulla era di una bellezza squisita. Apparteneva a quel tipo di donne malinconiche che sembrano fatte di miele scuro, liscio e dolce e incredibilmente appiccicoso, che con un gesto vischioso, una scossa di capelli, una sola lenta sferzata del loro sguardo dominano l'ambiente e tuttavia restano imperturbabili come al centro di un uragano, apparentemente inconsapevoli della propria forza gravitazionale, con cui attraggono irresistibilmente a sé i desideri e l'anima sia degli uomini sia delle donne. Ed era giovane, giovanissima, il fascino tipico della sua specie non era ancora trascorso in mollezza, le sue membra robuste erano ancora compatte e sode, i suoi seni simili a uova sode appena sbucciate e il suo volto liscio incorniciato da capelli neri e forti aveva ancora contorni estremamente delicati e zone di mistero. Ma i capelli non c'erano più, l'assassino li aveva tagliati e portati via come aveva portato via i vestiti. I sospetti cadero sugli zingari. Gli zingari erano capaci di tutto. Era noto che gli zingari tenevano tappeti con abiti vecchi e imbottivano i loro cuscini di capelli umani e fabbricavano piccole bambole con la pelle e con i denti degli impiccati. Un delitto così perverso poteva essere solo opera degli zingari. Tuttavia, in quel periodo non c'erano zingari da nessuna parte. Gli zingari hanno passati di lì per l'ultima volta in dicembre. In mancanza di zingari passarono a sospettare i lavoratori stagionali italiani, ma non c'erano neppure italiani. Per loro era troppo presto. Sarebbero arrivati in paese soltanto a giugno per la raccolta dei gelsomini, dunque non potevano essere stati loro. Infine, furono sospettati i fabbricanti di parrucche, presso i quali cercarono i cappelli della fanciulla assassinata. Inutilmente. Allora si pensò che fossero stati gli ebrei, poi i monaci, presunti lussuriosi del convento dei Benedettini, che naturalmente erano tutti già oltre gli sessanta. Poi i cistercensi, poi i massoni, poi i malati di mente della charité, poi i carbonai, poi i mendicanti e buonultima la nobilità di Soluta, in particolare il marchese di Cabris. Infatti si era sposato già per la terza volta. All'estiva, dicevano, messe orgiastiche nelle sue cantine e in tali occasioni beveva sangue di vergini per aumentare la propria potenza sessuale. Ovviamente non si riuscì a provare nulla in concreto. Nessuno aveva assistito al delitto. abiti e capelli della morta non furono trovati. Dopo qualche settimana il tenente di polizia sospese le indagini. A metà giugno arrivarono gli italiani, molti con le loro famiglie, per andare a servizio come raccoglitori. I contadini li assunsero, ma a memori del delitto proibirono alle moglie e alle figlie di frequentarli. La prudenza non era mai troppa. Infatti, sebbene in realtà i lavoratori stagionali non fossero responsabili del delitto accaduto, in linea di principio avrebbero ben potuto esserlo e quindi era meglio guardarsi da loro. Poco dopo l'inizio della raccolta dei gelsomini ci furono altri due delitti. Di nuovo le vittime erano fanciulle bellissime. Di nuovo appartenevano a quel tipo malinconico dei capelli neri. Di nuovo furono trovate in campi di fiori nude e coi capelli tagliati, con una ferita da botta alla nuca. Di nuovo non c'era traccia del colpevole. La notizia si diffuse con la rapidità di un incendio e quando si seppe che entrambe le vittime erano italiane, figlie di un bracciante genovese, ci fu il rischio che scoppiassero ostilità contro gli immigrati. Ora la paura gavava sul paese. La gente non sapeva più su chi dirigere la sua rabbia impotente. C'erano sì ancora qualcuno che sospettava i pazzi o l'ambiguo marchese, ma nessuno ci credeva fino in fondo, perché i pazzi erano sorvegliati giorno e notte. Il marchese era partito da tempo per Parigi. Quindi gli uomini si appressarono l'uno all'altro. I contadini aprirono i loro granai agli immigrati che fino allora si erano accampati all'aperto. I cittadini allestirono in ogni quartiere un servizio di pattuglie notturne. Il tenente di polizia rafforzò le guardie alle porte della città. Ma tutti i provvedimenti non servirono a nulla. Pochi giorni dopo il duplice omicidio si trovò ancora il cadavere di una fanciulla, conciato come i precedenti. Questa volta si trattava di una lavandaia sarda del Palazzo Vescovile che era stata uccisa vicino al grande vaccino d'acqua alla Fontaine de la Faux, dunque proprio davanti alle porte della città. E sebbene le autorità, spinte dalla cittadinanza eccitata, avessero intrapreso nuove misure, controlli più rigidi alle porte della città, rinforzo della guardia notturna, di vieto di uscire per tutte le persone di sesso femminile dopo il calare delle tenebre, quell'estate non passò più settimana senza che si trovasse il cadavere di una giovinetta. E sempre si trattava di adolescenti che avevano appena cominciato a farsi donne sempre delle più belle e per lo più di quel tipo scuro e vischioso. Per quanto l'assassino ben presto non disdegnasse più neppure il tipo femminile predominante nella popolazione locale, molle, di pelle bianca e lievemente corpulenta. Da ultimo erano diventate sue vittime persino le castane, adolescenti dai capelli biondo scuro, sempre che non fossero troppo magre. Le braccavo ovunque, non più soltanto nei dintorni di Grasse, ma nel cuore della città, addirittura nelle case. La figlia di un falegname fu trovata morta nella sua stanza al quinto piano e nessuno in casa aveva sentito il minimo rumore e non uno dei cani che in genere fiutavano. Qualsiasi sconosciuto, e lo segnalavano con latrati, aveva abbaiato. Sembrava che l'assassino fosse inafferrabile, immateriale, come uno spirito. La gente si indignò e se la prese con l'autorità. La minima diceria provocava assembramenti. Un mercante girovago che vendeva polverine d'amore e cialtronerie varie fu quasi massacrato, perché si disse che i suoi rimedi contenevano capelli triturati di giosinette. Al palazzo di Cabrisse e all'ospizio della Charité tentarono di appiccare incendi. Il mercante di tessuti, Alessandro Misnard, sparò al proprio domestico uccidendolo mentre costui tornava a casa di notte perché l'aveva scambiato per il famigerato assassino delle fanciulle. Chi poteva permetterselo? Mandò le figlie adolescenti da parenti lontani o impensionati a Nizza e o Marsiglia. Il tenente di polizia fu destituito dalla sua carica in seguito alle pressioni del consiglio municipale. Il suo successore fece esaminare i cadaveri di quelle bellezze private dei capelli da un collegio di medici per accertare la loro condizione virginale. Risultò che erano tutte intatte. Stranamente questo annuncio aumentò l'orrore anziché diminuirlo perché in cuor suo ognuno aveva pensato che le fanciulle fossero state violentate. In tal modo potevano almeno conoscere il movente dell'assassino. Ora non sapevano più nulla, erano totalmente confusi e chi credeva in Dio si rifugiava nella preghiera perché almeno la sua casa fosse risparmiata dalla visita del demonio. Il consiglio municipale, un organo composto da trenta fra i cittadini e i nobili più ricchi e più stimati di grass, per lo più gente illuminata e anticlericale che finora non aveva tenuto in gran conto il vescovo e per lo più aveva trasformato conventi e abazie in magazzini e fabbriche i fieri potenti signori del consiglio municipale nel momento del bisogno a consentirono a pregare Monsignor il vescovo con una petizione redatta in tono sottomesso affinché maledicesse e colpisse con la scomunica il mostro che assassinava le ragazze e su cui tutte le forze terrene non riuscivano a prevalere, così come aveva fatto il suo illustre predecessore nel 1708 con le terribili cavallette che a quel tempo minacciavano il paese. Ed in effetti l'assassino delle fanciulle di grass che fino allora aveva strappato a tutti i ceti della popolazione non meno di 24 tra le vergini più belle fu scomunicato e maledetto solennemente dal vescovo in persona sia per iscritto con un affisso sia a voce da tutti i pulpiti della città tra i quali anche il pulpito di Notre Dame du Puy. Il successo fu travolgente, i delitti cessarono da un giorno all'altro. Ottobre e novembre trascorsero senza cadaveri. All'inizio di dicembre da Grenoble giunsero i rapporti su un assassino di fanciulle che di recente circolava nel luogo. Strangolava le sue vittime e strappava loro gli abiti a brandelli dal corpo e i capelli a mazzi dalla testa. E sebbene questi rozi crimini non avessero niente a che vedere con i delitti di grass eseguiti in modo ineccepibile tutti erano convinti che si trattasse di un solo e unico autore. Gli abitanti di grass si fecero tre volte il segno della croce dal sollievo che la bestia imperversasse non più tra di loro bensì a Grenoble distante sette giorni di viaggio. Organizzarono una fiaccolata in onore del vescovo e il 24 dicembre celebrarono una grande messa di ringraziamento. Il primo gennaio 1766 le accresciute misure di sicurezza furono ridotte e il divieto di uscite notturne per le donne fu abolito. La normalità tornò nella vita pubblica e privata con una sveltezza incredibile. La paura era sparita come per incanto. Nessuno parlava più del terrore che solo pochi mesi prima aveva dominato la città e dintorni. Non se ne parlava neppure nelle famiglie colpite. Era come se la maledizione del vescovo avesse bandito non soltanto l'assassino ma anche qualsiasi ricordo di lui. E alla gente andava bene così. Soltanto chi aveva una figlia che si stava giusto avvicinando a quell'età particolare non era del tutto tranquillo e lasciarla incustodita veniva colto dall'ansia all'ora del tramonto ed era felice la mattina quando la ritrovava viva e vegeta naturalmente senza volersene confessare il motivo. Ma c'era un uomo a Grasse che non credeva a quell'atmosfera di pace. Si chiamava Antoine Riquis. Rivestiva la carica di secondo console della città e abitava in un edificio imponente all'inizio della rue Druat. Riquis era vedovo e aveva una figlia di nome Lor. Sebbene non avesse ancora 40 anni e possedesse una indomita vitalità pensava di rimandare un secondo matrimonio ancora per qualche tempo. Prima voleva far sposare sua figlia e non certo col primo arrivato bensì con un uomo di rango. C'era un tal barone di Bouillon con un figlio e un feudo a Vence con una buona reputazione e una cattiva situazione finanziaria con il quale Riquis aveva già preso accordi per un futuro matrimonio dei rispettivi figli. Quando poi Lor fosse stata maritata lui stesso avrebbe allungato le sue antenne di uomo libero in direzione di tre casati molto ragguardevoli i Dré, i Maubert e i Fomichel. Non perché fosse vanesio e dovesse a ogni costo dividere il letto con una consorte nobile ma perché voleva fondare una dinastia e indirizzare i suoi discendenti verso una vita che portasse alla massima considerazione sociale e alla massima influenza politica. Per questo gli occorrevano ancora almeno due figli uno dei quali si sarebbe occupato dei suoi affari mentre l'altro con una carriera giuridica e tramite il Parlamento di E si sarebbe introdotto nella nobiltà. Tuttavia come uomo del suo ceto poteva nutrire simili ambizioni con prospettive di successo soltanto legando intimamente la sua persona e la sua famiglia alla nobiltà provenzale. Ciò che comunque giustificava in lui progetti così ambiziosi era la sua favolosa ricchezza. Antoine Richis era di gran lunga il cittadino più facoltoso e aveva proprietà un po' ovunque. Possedeva lati fondi non soltanto nella zona di Grasse dove faceva coltivare aranci, ulivi, frumento e canapa ma anche nei pressi di Vence e verso Antibes dove li aveva appaltati. Possedeva case a De, case in campagna, partecipazioni in flottiglie che facevano rotta verso l'India, un ufficio stabile a Genova e la più grossa ditta di Francia di sostanze odorose, spezie, oli e pelli. Ma la cosa più preziosa che Richis possedeva era sua figlia, era la sua unica figlia. Di sedici anni giusti, con capelli rosso scuro e occhi verdi. Aveva un viso così incantevole che i visitatori di qualsiasi età e sesso restavano a guardarla impietriti e non riuscivano più a staccare gli occhi da lei. Pareva che addirittura leccassero il suo viso con gli occhi come se stessero leccando il gelato con la lingua. E così facendo assumevano l'espressione tipica della stupida devozione che tale attività leccatoria comporta. Persino Richis, quando guardava la propria figlia, si sorprendeva al punto che per qualche tempo, per un quarto d'ora, anche per una mezz'ora, dimenticava il mondo e con esso i suoi affari, cosa che, altrimenti, non gli succedeva neppure nel sonno. Si scioglieva tutto nella contemplazione della splendida fanciulla e in seguito non sapeva più dire che cosa avesse fatto. E di recente lo avvertiva con un malessere la sera, quando l'accompagnava a letto, o talvolta la mattina, quando andava a svegliarla e lei stava ancora dormendo, come adagiata la da mani divine, e attraverso la sua sottile camicia, da notte si manifestavano le forme dei suoi fianchi e del suo seno, e il suo respiro si levava calmo e tranquillo dal quadrato del petto, della curva dell'ascella, del gomito e dell'avambraccio liscio sul cui aveva appoggiato il viso. In quel momento gli si torceva sgradevolmente lo stomaco. Si sentiva stringere la gola e inghiottiva. E Dio sa se si malediceva per essere il padre di questa donna, e non uno sconosciuto, dinanzi al quale lei giacesse come ora dinanzi a lui, che senza scupoli avrebbe potuto stendersi accanto a lei, su di lei, entrare in lei con tutto il suo desiderio. Il sudore gli usciva a fiotti e le sue membra tremavano, mentre soffocava in sé quel desiderio mostruoso e si chinava su di lei per svegliarla con un casto a bacio paterno. L'anno precedente, al tempo dei delitti, non aveva ancora subito simili tentazioni funeste. Il fascino che a quell'epoca sua figlia aveva esercitato su di lui era stato così, almeno gli sembrava, un fascino ancora infantile. E anche per questo non aveva mai seriamente temuto che Lor potesse diventare vittima di quell'assassino che, come era noto, non aggrediva né donne né bambine, ma esclusivamente adolescenti in età virginale. In verità, aveva intensificato la sorveglianza della sua casa, aveva fatto mettere nuove inferiate alle finestre del piano terreno e incaricato la cameriera di dividere la stanza da letto con Lor. Ma era restiva a mandarla via, come facevano i suoi pari grado con le loro figlie, anziché persino con tutta la loro famiglia. Trovava questo comportamento spregevole, indegno di un membro del Consiglio e secondo console, che pensava per i suoi concittadini avrebbe dovuto essere un modello di pacatezza, di coraggio, di inflessibilità. Inoltre, era un uomo che non si lasciava dettare decisioni da altri, non da una folla in preda al panico e men che meno da un solo cialtrone anonimo di un assassino. E così, per tutto quel terribile periodo, era stato uno dei pochi in città a restare immune dalla febbre della paura e a serbare la mente fredda. Ma ora, stranamente, tutto cambiò. Cioè, mentre tutti gli altri là fuori, come se avessero già impiccato l'assassino, festeggiavano la fine delle sue imprese e presto dimenticarono del tutto i tempi infausti, nel cuore di Antoine Riquis si annidò la paura come un orribile veleno. Per molto tempo non volle ammettere che era la paura che lo portava a differire i viaggi a lunga scadenza, a lasciare la casa malvolentieri, ad abbreviare le visite e le sedute per poter rientrare presto. Si giustificava di fronte a se stesso, aducendo un'indisposizione o un eccesso di lavoro. Ammetteva anche di essere un po' preoccupato, proprio come qualsiasi altro padre che ha una figlia di età da marito. Una preoccupazione del tutto normale. La fama della bellezza di Lor non era forse di pubblico dominio? Non si allungavano già forse i colli quando la domenica qualcuno l'accompagnava in chiesa? E certi membri del consiglio non facevano già delle avance a nome proprio o dei propri figli?